ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo ai ai world 2 è una preview e come tutte le previue non ho mai provato il gioco e lo proveremo insieme having multiple in profile let's go connect multiple game different game non so cosa fare nuovo si colori quanti colori ma è una navicella no non questi cosa sono non lo so vediamo una bianco un figo un figo bianco questo preset option ok vabbè andiamo settings audio non ho capito errore a non trovo la risoluzione va bene volume della musica via salva a ecco forse un po troppo ok ok bene espansioni 3d 3 non installata espansione si vede male si vede male c'è qualcosa che non va bene si vede a perché siamo in 640 per 480 6 a c'era qualcosa che non andava dicevo io si vedeva malissimo perfetto espansioni non installate ma ce le ho le posso salvare ma non lo so automazione automazione gioco e camera zoom in zoom out vabbè non lo so però qua ok vai andiamo salva ora in public beta andiamo in single play se vedi il tutorial basic planetary control perché non ne so assolutamente nulla cosa devo fare ma che bella però signori bella a vsd per muoverci benvenuti vsd per erano della camera e poi però come faccio a ma che bellissima stanami ma ma guarda il dettaglio che zoom ma figacine anche la canzone è bella mi piace non so cosa si faccia però è bello e come faccio a drag pan e hold down middle bounce button a ok va bene ok click now zoom in zoom out con lo scroll ok e poi abbiamo mantieni q per ruotare e quelli chi sono queste le mie navicelle fico select click ai si spostano con right click perfetto va bene e devo andare qua vuolano però cosa cosa ho fatto molto rilassante la canzoncina ma sono velocissime e poi che devo fare e non passa più non so qual è l'ultimo passa cosa non passa signori non passa quando tu escezionate è tempo di farle muovere muove il mouse e let click sul pianeta ma sul pianeta forse così midlender che ne so io cos'è questo ma c'è tanta roba qua non lo so però è molto rilassante la musichetta quindi non ce la faccio neanche vorrei farla scorrere senza parlare ok adesso che devo fare però non ho capito m a ecco l'ho finito non so come abbia finito però bene ora mettiamo anche più attivo ci sono degli droni che penso che siano questi ok quindi faccio no queste due giusto ma posso fare contro l'uno me li salva no no non si sa cos'è l'uno ok andiamo qua e vai distruggi no non so come si fa fa combattere e non so come si faccia è una cosa un po strana allora ma loro non sono questi a chi sono i troni drone sentinella questo può gli asteroidi stanno passando però non attaccano attacca no signori non si attaccano io non lo so come si attacca c'è è il psosmi c'è in forte ma che si muove se se ne va no ma non è che ma forse questa è la fregata aspettate un attimo questo non sa fregata questi mi sa che sono un'altra cosa questa è la mia fregata eh sì 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 ok ho capito ok quei due secondo me sono quelli che vanno a prendere le risorse nel frattempo che lui uccide quello secondo me questo va qua va a prendere le risorse vabbè vediamo la nostra fregata un po lento spaca perché da vicino più razzi ok vai spacca tutto dai tanti questi qua ancora il tutorial non ci fanno niente Avvicine di qua vediamo la fregata però lo zoom è allucinante singolo dettaglio ok l'ho fatta tutorial completato tutorial 99 cosa sarebbe questo non è un full tutorial ah 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 ok quit game ci riportiamo qua andiamo in single player e cerchiamo di vediamo un attimo custom start load game quick start quick start helping end scenario difficoltà difficoltà moderato a civile guerra civile ma c'è tanta roba tutti i miei amici no andiamo in basic helping end di scenario e nome della della tua nuova compagnia broccolo vai ah ma partiamo sempre da qua però ma ma così non ci capisco niente però cominci a avere problemi su questo gioco sembra fighissimo ok allora iniziamo e che devo fare non abbiamo obiettivi questa che sta facendo sono le mie fregate ah ok così facciamo così si 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 sforna tutto dell'onghi andiamo vediamo vediamo secondo me c'è un portale si può uscire dal portale non lo so però non lo so però adesso ci proviamo vediamo cosa possiamo fare allora più di qua non possiamo andare quindi più di qua non si va pianeti oh come si fa raggiungi voglio raggiungere questo no no questo no non lo so you are inferior ok se volessi andare un altro pianeta ah eccolo qua oh finalmente dopo 14 minuti ho capito come si fa andiamo qua eccomi spacca tutto ce l'ho fatta signori ce l'ho fatta ho capito finalmente abbiamo anche lo scudo qua distruggiamo tutto adesso però c'è il portale credo che quelli erano portali si ma uccidi tutto spingiato spacca tutto vale distruggi il cannone ok fuori uno lo conquistiamo questo vabbè ma gli facciamo un male della madonna secondo me anche altre navicelle che non c'entrano nulla tipo questo che cos'è secondo me non attacca un concurso questo mi stanno camminando ah vanno attaccano in automatico loro questa è la loro stazione spaziale e questo cos'è non lo so ci sono un sacco di navicelle e un sacco di cose che naturalmente bisognerebbe leggere e capire che cosa sono questo è un portale però a noi per adesso non ci interessa perché ci interessa distruggere tutto e divertirci spaccate tutto un overlord del pianeta è distrutto tutto mi sa madonna mia che dis distruggi tutto vai 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 è distrutto tutto e poi questo questo che fa e questo che fa ammazziamo e questo pure venite qua un attimo vai non gli faccio niente ma che bello però ci siamo entrati proprio dentro ok ah la la ok adesso noi siamo andati da ferrir andiamo su Eva no dobbiamo fare così com'era qua ok andiamo su andiamo qua bravissimo dove siamo eccomi qua vai vai conquistiamo tutto vai spacca tutti che ci sta attaccando ci sta attaccando ci sta attaccando ah ma loro hanno le basi andiamo qua allora attacchiamo lui io attacco tutti non mi interessa contro tutti che bella siamo sotto attacco ma no ma no non mi interessa non mi interessa Distruggi tutto Noi siamo in distruggipianeti Che dice questa? Ma Ferri Ah Ferri e Contraattacco E Contraattacco Ferri e Contraattacco signori Ferri e Contraattacco Dove siamo noi qua? Eva Eva E l'ho capito Aspetta Vai Spostiamoci a Ferri Ci stanno attaccando signori Ci stanno Siamo sotto attacco Adesso spuntiamo Questi cavolo di dronini di cacca qua Vabbè ma Tipo Questi qua che fanno? Scusami Non fanno niente Ma questa non sforna più cosa? Come si faceva a sforna? Non si può sfornare le navicelle? No Vabbè ma essere siamo arrivati Dai Facciamo così Ok ci siamo Adesso lo riparano Ho capito che quelli sono i riparatori E qua ci siamo con gli attaccanti Ok Quindi abbiamo chi ripara e chi attacca Facciamo piazza pulita di sti Sti cosi qua Avete toccato La fazione sbagliata Signori Right click To reinforce No left click To free it Ok vabbè Roba è strana Qui sono duri a morire Hello again Spawn away La neva Ok Allora Build tech hack Intel Journal No mi servirebbero le flotte Ecco allora Strike Questa qua Mobile support Battle station E command station Perfetto Ok E noi ci portiamo su Dove eravamo? Su Eva Ok questa è la mappa Praticamente Perché non Non attacchiamo più È arrivato lo scontro Finalmente Vai 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 Tutti 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 Andiamo a uccidere tutto Vai si butta Nella ritirata Allora Va Che cosa ha detto Non lo so E andiamo a Qua C'è questo coso quadrato Che non so cos'è Andiamo qua Eccoci Ci stanno già attaccando Eh si Qua mi sa che Andremo a morire Perché 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 non sono andati Tutti E lo so che sono andato Attacco Però Il problema Sai cos'è È che non sono Sponati tutti Quindi adesso Quindi adesso facciamo così Quindi adesso facciamo così Mi sa che qui ci lasceremo le penne Che cosa è Che cosa è Che skill Super figa E ci fa difendere Eh lo so Andiamo a attaccare questi Ci hanno Gli scudi Ah ma c'è anche questo Chi è questo Ci fa un male cane quello lì Quello lì ci fa un male cane Quella torretta lì E mi sa che Cripple Decripple Non so cosa significa Cosa vuole dire Però vabbè Ah forse ce l'hanno conquistata Beh allontaniamoci un attimo Perché ormai siamo morti Va bellissimo Nervo pur suite Non so cosa sia Però vabbè Eh sì Mi sa che siamo Morti K Eh sì L'unica è La ritirata Eh mi sa che questi Stanno per morire Va bene Ci hanno distrutto la flotta Non ci resta altro che Tornarcene a casa Sarebbe bello capire Come conquistare i pianeti Però Edit name Note Ping Eccetera eccetera Tutte le fazioni Questi qua chi sono Ah questi qua riparano Sono i riparatori Quindi quelli là Sono i riparatori Perfetto Sono riuscito a capire Almeno una flotta Qual era E le altre sono le flotte Di Sostegno E qualcos'altro Non lo so Allora la musica È bellissima Il gioco è Da leggere Capire tutto Naturalmente In pochi minuti È difficile capirlo Ma spero di avervi Dato un'idea Di cos'è AI World 2 Lascerà a voi La scelta Di provare Giocare Acquistare questo gioco Oppure no Se vi va lasciate un commento Un like E l'iscrizione al canale È sempre ben accetta Per supportarlo Spero Che vi sia piaciuto Ed Come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye Sono stato ammaliato Un po' della musica Per questo ho parlato poco È più bello Sentire la musica E l'iscrizione al canale E l'iscrizione al canale